buongiorno a tutti e grazie mille di questa occasione di incontro seppure virtuale io sono sposato a 21 anni ho tre figli dirigo dal 1991 l'azienda di famiglia fondata nel 1920 e attiva nel settore logistica portuale durante il periodo della mia attività l'azienda è cresciuta sia in italia che all'estero abbiamo oggi sei terminal movimentiamo 5 milioni di tonnellate in italia albania e tunisia e stiamo sviluppando il primo deposito di gas naturale liquefatto in italia insieme alla edison sono occupato della crescita organizzativa e manageriale della digitalizzazione dell'azienda e ho cercato anche nella mia vita di essere sempre coinvolto nei temi sociali e della cultura con la convinzione della cultura fondi la nostra convivenza vorrei ringraziare tutti dell'accoglienza il presidente federazione il direttore naturalmente presente mattarella che attribuisce questa onorificenza e tutti i cavalieri che mi hanno accolto con con biglietti che mi hanno commosso grazie a tutti e buon lavoro Breído L'azienda Gabriella Pasable A tuaarngia Lu原